Severino Boezio, l'ultimo degli antichi. Severino Boezio, o Boezio, è stato un filosofo e senatore romano vissuto tra il V e il VI secolo, durante la dominazione ostrogote in Italia. È considerato uno dei più importanti pensatori del Medioevo, e le sue opere hanno avuto una profonda influenza sulla filosofia cristiana. Boezio nacque a Roma verso il 480 da una famiglia senatoriale. Fu un bambino prodigio, e già a 15 anni era in grado di discutere di filosofia con i maestri più eminenti. Studiò a Roma, Atene e Alessandria, e fu influenzato da una vasta gamma di filosofi, tra cui Platone, Aristotele, Plotino e Agostino di Pona. Boezio fu un prolifico scrittore, e le sue opere spaziano dalla logica alla teologia, dalla musica alla matematica. È noto soprattutto per i suoi trattati di logica e teologia, che furono fondamentali per la trasmissione della cultura greca al mondo latino. I trattati di logica. Boezio tradusse in latino le opere logiche di Aristotele, commentandole e integrandole con le sue proprie idee. I suoi trattati di logica, tra cui De Institutione Aritmetica, De Institutione Musica e De Trinitate, furono fondamentali per lo sviluppo della logica medievale. La consolazione della filosofia. La consolatiofilosofia è l'opera più famosa di Boezio. Scritta durante la sua prigionia, l'asterisco asterisco consolatio asterisco asterisco è un dialogo tra Boezio e la filosofia, che lo aiuta a superare le difficoltà della sua situazione. L'opera è un capolavoro della letteratura latina e ha avuto una profonda influenza sulla cultura occidentale. La morte. Boezio fu arrestato nel 523 dal re Ostrogoto Teodorico, che lo accusava di tradimento. Fu imprigionato a Pavia, dove fu torturato e infine giustiziato nel 524. L'eredità di Boezio. Boezio è considerato uno dei più importanti filosofi del Medioevo. Le sue opere hanno avuto una profonda influenza sulla filosofia cristiana, e furono studiate e commentate da generazioni di pensatori. Boezio è stato un uomo di grande intelligenza e cultura. Le sue opere sono un prezioso documento della cultura classica, e hanno contribuito a preservare il sapere greco e romano per le generazioni future. Alcuni dei temi principali della filosofia di Boezio. La filosofia di Boezio è caratterizzata da una profonda tensione tra la tradizione classica e la nuova, religione cristiana. Boezio era un convinto assertore della ragione, e credeva che la filosofia fosse in grado di fornire risposte alle grandi domande dell'esistenza. Tuttavia, era anche consapevole dei limiti della ragione umana, e riconosceva la necessità della fede. Alcuni dei temi principali della filosofia di Boezio sono i seguenti, la natura della verità. Boezio sosteneva che la verità è unica, e che esiste indipendentemente dalla mente umana. La verità può essere raggiunta attraverso la ragione, ma anche attraverso la fede. La natura della conoscenza. Boezio distingueva tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale. La conoscenza sensibile è quella che deriva dai sensi, e riguarda il mondo materiale. La conoscenza intellettuale è quella che deriva dalla ragione, e riguarda il mondo spirituale. La natura dell'anima. Boezio sosteneva che l'anima è immortale, e che sopravvive al corpo dopo la morte. L'anima è dotata di ragione, e può raggiungere la verità attraverso la contemplazione. La natura di Dio. Boezio sosteneva che Dio è l'essere supremo, e che è la fonte di tutta la verità e di tutta la bontà. Dio è trascendente, e quindi non può essere compreso appieno dalla mente umana. L'influenza di Boezio. Le opere di Boezio hanno avuto una profonda influenza sulla filosofia cristiana del Medioevo. I suoi trattati di logica furono fondamentali per lo sviluppo della logica medievale, e la sua consolatio filosofia fu uno dei testi più letti e commentati del Medioevo. Boezio è considerato uno dei fondatori della scolastica, che è la corrente filosofica che ha cercato di conciliare la filosofia greca e la religione cristiana. Le sue opere sono ancora oggi studiate e apprezzate, e continuano a offrire importanti spunti di riflessione sul rapporto tra ragione e fede. Grazie a tutti.